È arrivato il turno di Luigi Panico. Hai invitato per Luigi Panico? Sì, Luigi Panico. Non so chi è. Luigi Panico dovrebbe già essere dietro. Eccolo qui, il timido Luigi. Luigi, io volevo affrontare una discussione con te, con Luigi Panico. Cosa è successo con questo microfono? Roberto, fa sempre Brudel. Era piccolino. Allora, Luigi, noi l'altra volta abbiamo deciso di fare un brano. Perché stasera, durante il check, hai deciso di cambiarlo? Oggi mi sono svegliato con questa canzone che è inedita, non l'ho mai fatta sentire a così tante persone tutte insieme. Volevo farlo perché oggi sentivo questo stato d'animo. Io lo capisco. Alle volte mi vesto male, alle volte mi vesto peggio. Allora, sei sicuro di poter fare questa? Sì. Come si chiama? Si chiama Blu. L'altra? Sensity. No, mi piace già più Blu. Allora, signore, chi vota per Blu? Mano alzata. Non male. Non male, ragazzi. Hanno vinto Blu. E chi vota per la bellissima Sensity? Come se tutti la conoscessero. Sentiamo Blu. Blu, blu. No, fermati un momento. Maurizio, ma noi il Blu. Eh. Ce l'abbiamo? Lo possiamo colorare? Fammi vedere, fammi vedere. Facciamo tutto Blu. C'hai un pissimo, ragazzi, un sonno. Maurizio, c'hai un puffo che fai camminare sul palco. Ecco, sentiamola. No, fighissimo, sta storia. Signori, Luigi Panico. Se ci aveva sentito come quello eravamo. Cioè, avete visto? Cioè, se ne doveva andare dal palco. Non lo so. Luigi Panico in Blu. Luca Panico in Blu. Cioè, se ne doveva andare dal palco. Cioè, se ne doveva andare dal palco. Cioè, se ne doveva andare dal palco. Cioè, sire, vei. I don't care of emotions I don't care of light skin Open the doors and let me 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 They open the door Here I see the beads of puzzle They take shape, state by state I don't care of emotions I don't care of light skin Open the doors and let me 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 No, I can't wait I can't control I'm resuming everything that is mine I don't care of you 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 Che bravo, wow, bravo Luigi, bravo, bellissima, mi piace questa cosa scenica di allontanarsi, non dite a Roberto che è successo questo, un marunel, è una chitarra importante, è importantissima, questo è il nostro segreto, allora Luigi, grazie a te, grazie a voi, In bocca al lupo, ti è piaciuta la storia del blu? Ti è piaciuta la luce blu? Sì, mi è piaciuta molto, grazie, e sto a essere del teatro, sono emozionatissimo e grazie, vi ringrazio tutti per avermi ascoltato, non fare che non ti fai sentire, ci aspettiamo, a presto, in bocca al lupo, Luigi Panico.